GK Kesterton La sfera e la croce Capitolo 3 Alcune vecchie curiosità Il cielo della sera, una cupola d'oro massiccio, non sfaldato nemmeno da una singola nuvola al tramonto, imbeveva i panorami più meschini di Londra di una luce strana e dolce. Faceva sembrare una piccola strada unta di Santo Martins là nella stricata d'oro. Faceva brillare a metà il banco dei pegni come se fosse proprio quella montagna di pietà che l'istinto poetico francese l'ha chiamata. Ha fatto sì che la meschina libreria pseudo-francese, subito dopo, una bottega piena di tetroindecenza, mostrasse per un momento una specie di colore parigino. E il negozio che si trovava tra il monte dei pegni e il negozio di tetroindecenza, mostrava con un bel lampo di bellezza del vecchio mondo, perché era, per caso, un negozio non poco bello in sé. La finestra anteriore aveva uno spiraglio di bronzo e acciaio azzurro, illuminato, come da poche stelle, dalle scintille di quelli che si diceva fossero gioielli, perché in breve era un negozio di cianfrusaglie e vecchie curiosità. Una fila di spade del XVII secolo semibrunite correva come una ringhiera ornata lungo la parte anteriore della finestra. Dietro c'era un bar lume più scuro di vecchia quercia e vecchie armature. E più in alto erano appesi gli strumenti o gli utensili dei mari del sud dall'aspetto più straordinario, progettati per uccidere i nemici o semplicemente per cucinerli, nessun semplice uomo bianco poteva congetturare. Ma il romanticismo dell'occhio, che proprio in questa ricca serata si è aggrappato al negozio, ha avuto la sua fonte principale nell'incidente di due porte rimaste aperte, la porta principale che si apriva sulla strada e una porta sul retro che si apriva su uno strano verde quadrato di giardino, che il sole trasformò in un quadrato d'oro. Non c'è niente di più bello che guardare così attraverso l'arco di una casa. Come se il cielo aperto fosse una camera interna, e il sole una lampada segreta del luogo. Ho suggerito che la luce del tramonto ha reso tutto incantevole. Dire che ha reso adorabile il custode del negozio di curiosità sarebbe un tributo forse troppo estremo. Lo avrebbe facilmente reso bello se fosse stato semplicemente squallido? Se fosse stato un ebreo del tipo Fajin. Ma era un ebreo di un altro tipo e molto meno ammirevole. Un ebreo con un nome molto ben sonnante. Perché sebbene non ci siano dure prove per separare la zizzania dal grano di qualsiasi popolo, una guida rude ma efficiente è che il simpatico ebreo si chiama Moses Solomon e il cattivo ebreo si chiama Thornton Percy. Il custode del negozio di curiosità era del ramo di Thornton Percy del popolo eletto. Apparteneva a quelle dieci tribù perdute il cui operoso scopo è perdere loro stessi. Era un uomo ancora giovane, ma già corpulento, con capelli scuri e lucenti, bei vestiti pesanti e un sorriso pieno, grasso e permanente, che al primo sguardo e pariva gentile e al secondo codardo. Il nome sopra il suo negozio era Henry Gordon, ma due scozzesi che erano nel suo negozio quella sera non riuscirono a trovare traccia di un accento scozzese. Questi due scozzesi in questo negozio erano acquirenti attenti, ma pagatori a mano libera. Uno di loro che sembrava essere il preside e l'autorità che, in effetti, il signor Henry Gordon credeva di aver visto da qualche parte prima, era un tipo piccolo e robusto, con begli occhi grigi, una cravatta rossa quadrata e una barba rossa quadrata, che portava avanti aggressivamente come se sfidasse chiunque a tirarlo. L'altro teneva così tanto in secondo piano in confronto che sembrava quasi spettrale nel suo mantello grigio applied, un giovane alto, giallastro, silenzioso. I due scozzesi erano interessati alle spade del XVII secolo. Erano pignoli su di loro. Fecero portare fuori un intero arsenale di queste armi e fecero rotolare rumorosamente sul bancone, finché non ne trovarono due esattamente della stessa lunghezza. Presumibilmente desideravano l'esatta simmetria per qualche trofeo decorativo. Anche allora sentivano le punte, tenevano in equilibrio le spade e le piegavano in cerchio per vedere che balzavano di nuovo dritte. Che, a fini decorativi, sembra portare il realismo piuttosto lontano. Questi andranno bene, disse la strana persona con la barba rossa. E forse è meglio che li paghi subito. E poi che lei è lo sfidante, signor Machan, forse è meglio che mi spieghi la situazione. L'alto scozzese in grigio fece un passo avanti e parlò con una voce abbastanza chiara e audace, eppure in qualche modo senza vita, come un uomo che sta attraversando un'antica formalità. Il fatto è, signor Gordon, dobbiamo riporre il nostro onore nelle sue mani. Tra il signor Turnbull e me sono passate parole su una questione grave e inestimabile, che può essere espiata solo combattendo. Sfortunatamente, poiché la polizia è in un certo senso ci inseguiamo, abbiamo fretta, e dobbiamo combattere subito e senza secondi. Ma se sarai così gentile da portarci nel tuo piccolo giardino e vedere il gioco lontano, sentiremo come. Trattino trattino. Il negoziante si riprese se stesso da una sbalordittiva sorpresa e sbottò, Signori, siete ubriachi? Un duello. Un duello nel mio giardino. Andate a casa, signori, andate a casa. Perché, di cosa avete litigato? Abbiamo litigato, disse Evan, con la stessa voce morta, a proposito della religione. Il grasso negoziante si rotolava sulla sedia con piacere. Beh, questo è un gioco divertente, ha detto. Quindi vuoi commettere un omicidio per conto della religione? Bene, bene la mia religione è un po' di rispetto per l'umanità, e trattino trattino trattino, scusatemi, interruppe Turnbull, improvvisamente e ferocemente, indicando la porta accanto del banco dei pegni. Non possiedi quel negozio? Perché? Emh. Sì, disse Gordon. E non possiedi quel negozio? Ripete il laico, indicando all'indietro il libraio pornografico. E se lo faccio? Beh, allora, gridò Turnbull, con stridente disprezzo. Lascerò con fiducia la religione dell'umanità nelle tue mani. Ma mi dispiace di averti turbato per una cosa come l'onore. Guarda qui, amico mio. Io credo nell'umanità. Io credo nella libertà. Mio padre è morto per questo. Sotto le spade dello Yeomanary. Morirò per questo, se necessario, sotto quella spada sul tuo bancone. Ma se c'è una vista che mi fa dubitare di ciò è la tua faccia ripugnante e grassa. È difficile crederti non erano fatti per essere governati come un cane o uccisi come uno scarefaggio. Non mettere alla prova la filosofia del tuo schiavo su di me. Combatteremo, e combatteremo nel tuo giardino, con le tue spade. Stai fermo. Alza il tuo voce sopra un sussurro, e ti faccio scorrere attraverso il corpo. Turnbull posò la punta lucente della spada contro il panciotto allegro del mercante, che se ne stava soffocato dalla rabbia e dalla paura, e uno stupore così schiacciante da essere maggiore di entrambi. Ma-Chan, disse Turnbull, cadendo quasi nel tono familiare di un socio in affari, Ma-Chan, lega questo tizio e mettigli un bavaglio in bocca. Stai fermo, dico, o ti uccido dove sei. L'uomo era troppo spaventato per urlare, ma si dibatteva selvaggiamente, mentre Eva-Chan, le cui mani lunghe e magre erano insolitamente potente, gli strinse alcune vecchie corde di tenda intorno, gli misi in bocca un bavaglio di corda e lo fece rotolare sulla schiena sul pavimento. Non c'è niente di molto forte qui, disse Evan, guardandosi intorno. Ho paura che risolverà quel bavaglio in mezz'ora o giù di lì. Sì, ha detto Turnbull, ma uno di noi sarà ucciso da quel momento. Beh, speriamo di sì, disse Liglander, lanciando un'occhiata dubbiosa alla cosa che si dimenava sul pavimento. E ora, disse Turnbull, arricciandosi i baffi infuocati e tastando la spada, andiamo in giardino. Che squisita sera d'estate! Machan non disse nulla, ma sollevando la spada dal bancone uscì al sole. La luce brillante correva lungo le lame, riempiendone i canali di fuoco bianco. I combattenti infilarono le spade nell'erba e si tolsero il cappello, la giacca, il panciotto e gli stivali. Evan recitò tra sé una breve preghiera in latino, durante la quale Turnbull fece una specie di parata di accendere una sigaretta che gettò via l'istante dopo, quando vide Machan apparentemente pronto. Eppure Machan non era esattamente pronto. Rimasi in piedi a fissare come un uomo colpito da una trans. Cosa stai guardando? Chiese Turnbull. Vedi i bobis. Vedo Gerusalemme, disse Evan, tutta coperta dagli scudi e dalle insegne dei saraceni. Gerusalemme. Disse Turnbull, ridendo. Beh, abbiamo portato in cattività l'unico abitante. E prese la sua spada e la fece fischiare come la bacchetta di un ragazzo. Chiedo scusa, disse Machan, seccamente. Cominciamo. Machan fece un saluto militare con la sua arma, che Turnbull copiò o parodiò con un impaziente disprezzo. E nella quiete del giardino le spade si unirono con un suono chiaro come una campana. Nell'istante in cui le lame si toccarono, ciascuna le sentì fremere fino alle punte con una vitalità personale, come se fossero due nudi nervi d'acciaio. Evan aveva indossato un'aria di apatia, che avrebbe potuto essere l'apatia stantia di uno che non vuole nulla. Ma era davvero l'apatia più terribile di chi vuole qualcosa e non si cura di nient'altro. E questo fu visto all'improvviso. Per l'istante in cui Evan si impegnò, si liberò e si lanciò con una violenza infernale. Il suo avversario con disperata prontezza parò e replicò. La parata è appena riuscita, la replica è fallita. Qualcosa di grosso e insopportabile sembrava essere finalmente uscito da Evan in quel primo a fondo omicida, lasciandolo più leggero, più fresco e più veloce in piedi. Cadde di nuovo, ferocemente immobile, ma ora con una feroce cautela. Un attimo dopo Turnbull si lanciò. Machan sembrò cogliere il punto e gettarlo via da lui, e stava spingendo indietro come un fulmine, quando un suono lo paralizzò. Un altro suono accanto alle loro armi squillanti. Turnbull, forse per uguale stupore, forse per cavalleria, si fermò anche lui e si trattene di lanciare la sua spada attraverso il suo nemico esposto. Che cos'è? Chiese Evan, con voce roca. Dal negozio buio dietro di loro proveniva un forte rumore stridente, come di un baule trascinato su un pavimento ingombro di rifiuti. Il vecchio ebreo ha rotto uno dei suoi fili e sta strisciando qua e là, disse Turnbull. Fai presto. Dobbiamo finire prima che tiri fuori il bevaglio. Sì, sì, presto. In guardia. Gridò Liglander. Le lame si incrociarono di nuovo con lo stesso suono come un canto, e gli uomini tornarono al lavoro con le stesse facce bianche e vigili. Evan, nella sua impazienza, tornò un po' alla sua follia. Costruiva molini a vento, come dicono i doelanti francesi, e sebbene fosse probabilmente un'ombra il miglior schermitore dei due, si accorse che la punta dell'altro gli passava il viso due volte così vicino da sfiorargli la guancia. La seconda volta si rese conto della reale possibilità della sconfitta e si ricompose sotto lo sciocche nella sanità mentale della rabbia. Si restrinse, e, per così dire, rafforzò le sue operazioni, recintava come va il vanto dello spadaccino, in una fede nuziale. Ha girato le spinte di Turnbull con uno scatto esasperante e quasi meccanico, come quello di una macchina. Ogni volta che la spada di Turnbull cercava di superare quell'altra semplice striscia bianca, sembrava essere intrappolata in una complessa rete di acciaio. Girò una spinta, ne girò un'altra, ne girò un'altra. Poi improvvisamente è andato avanti all'affondo con tutto il suo peso vivo. Turnbull balzò indietro, ma Evan si lanciò, balzò e si lanciò di nuovo come una diabolica biella o una riete. E in alto soprattutto il rumore della lotta irruppe nella sera silenziosa una voce umana mugita, nasale, rauca, al più alto grado di dolore. Aiuto. Aiuto. Polizia. Omicidio. Omicidio. Il bavaglio era rotto? E la lingua del terrore era sciolta. Continua. Sussultò Turnbull. Uno può essere ucciso prima di venire. La voce del negoziante urlante era abbastanza forte da attutire non solo il rumore delle spade ma tutti gli altri rumori intorno ad essa, ma anche attraverso il suo frastuono lacerante sembrava che ci fosse qualche altro movimento o fretta. Ed Evan, proprio nel lato di colpire Turnbull, vide qualcosa nei suoi occhi che gli fece cadere la spada. L'Ateo, con i suoi occhi grigi nel punto più ampio e selvaggio, stava fissando da sopra la sua spalla il piccolo arco della bottega che si apriva sulla strada algila. E vide l'arco bloccato e annerito da strane figure. Dobbiamo scappare, ma Chan, disse bruscamente. E non c'è neanche un dannato secondo da perdere. Fai come me. Con un balzo flaccanto al gruppetto di vestiti e stivali che giaceva sul prato. Li afferrò, senza aspettare di indossarli, e infilando la spada sotto l'altro braccio, andò selvaggiamente contro il muro in fondo al giardino e vi si gettò sopra. Tre secondi dopo che era sceso con i calzini dall'altra parte, Ma Chan scese accanto a lui, anche lui con i calzini e portando anche vestiti e spada in un fagotto disperato. Si trovavano in una strada secondaria, di per sé molto magra e solitaria, ma così vicina a un'arteria affollata che potevano vedere le vaghe masse di veicoli che passavano, e potevano persino vedere una carrozza individuale che passava l'angolo all'istante. Turnbull si portò le dita alla bocca come un beccaccino e fischiò due volte. Anche mentre lo faceva poteva sentire le voci forti dei vicini e della polizia che scendevano dal giardino. La carrozza osciò bruscamente e piombò giù per il viottolo al suo richiamo. Tuttavia, quando il cocchiere vide le sue corse, due uomini dai capelli selvaggi in camicia e calzini con le spade nude sotto il braccio, noni naturalmente si fermò rigidamente e lo guardò sospettoso. Parla con lui un minuto, sussurrò Turnbull, e fece un passo indietro nell'ombra del muro. Vogliamo che tu, disse Macian al vettorino, con un superbo accento scozzese di indifferenza e sicurezza, che ci porti alla stazione di Santo Pancras. Molto presto. Mi dispiace molto, signore, disse il vettorino, ma mi piacerebbe sapere che era tutto a posto. Potrei iniziare da dove vieni, signore? Un secondo dopo aver parlato, Macian udì una voce pesante dall'altra parte del muro, che diceva, suppongo che sia meglio che vada a cercarli. Dammi una schiena. Cabbi, disse Macian, assumendo di nuovo la più deliberata e persistente intonazione scozzese di pianura, Se sei davvero molto ansioso di sapere cosa succede, te lo dirò come un vero grande segreto. Scozia. E sto andando alla stazione di Santo Pancras. Apri le porte, tassista. Il tassista fissò, ma rise. La voce pesante dietro il muro disse, Allora, una migliore schiena questa volta, signor Price. E dall'ombra del muro Turnbull se tagliolò fuori. Aveva lottato selvaggiamente nel suo cappotto, lasciando il panciotto sul marciapiede, e con un viso pallido e feroce si arrampicava sulla carrozza dietro il tassista. Macian non aveva la minima idea di quello che stava facendo, ma un istinto di disciplina, ereditato da cento uomini di guerra, lo faceva tenere dalla sua parte e fidarsi di quella dell'altro. Apri le porte, tassista, ripete, e, con qualcosa dell'ostinata solennità di un ubriacone, apri le porte. Non mi hai sentito dire stazione di Santo Pancras. La parte superiore dell'elmetto di un poliziotto apparve sopra il muro del giardino. Il cocchiere non se ne accorse, ma rimase ancora sospettoso e cominciò, molto dispiaciuto, signore, ma... E conciò e felino Turnbull lo strappò dal sedine e lo scaraventò nella strada sottostante, dove giacque improvvisamente stordito. «Dammi il suo cappello», disse Turnbull con voce d'argento, che l'altro obbediva come una tromba. «E vai dentro con le spade». E proprio come il viso rosso e furioso di un poliziotto è apparso sopra il muro, Turnbull colpì il cavallo con un terribile colpo di frusta e i due si allontanarono vorticosamente come un boomerang. Avevano girato per sette strade e tre o quattro piazze prima che accadesse altro. Poi, nel quartiere di Maeda Vale, l'autista ha aperto la trappola e ha parlato attraverso di essa in un modo non del tutto comune nelle conversazioni attraverso quell'apertura. Signor Maa Chan, disse concisamente e civilmente. Signor Turnbull, rispose il suo immobile prezzo. In circostanze come quelle in cui siamo stati entrambi recentemente messi, non c'è stato tempo per altro che per un'azione molto brusca. Confido quindi che non abbiate motivo di lamentarvi di me se ho rimandato fino a questo momento una consultazione con voi sul nostro presente posizione o azione futura. La nostra posizione attuale, signor Maa Chan, immagino di non avere particolari necessità di descrivere. Abbiamo infranto la legge e stiamo fuggendo dai suoi ufficiali. La nostra azione futura è una cosa di cui io stesso mi preoccupo sufficientemente opinioni forti, ma non ho il diritto di assumere o anticipare le tue, anche se posso aver formato una concezione decisa del tuo carattere e una nozione decisa di ciò che probabilmente saranno. Tuttavia, per ogni principio di giustizia intellettuale, sono tenuto a chiederti ora e seriamente se desideri continuare i nostri rapporti interrotti. Maa Chan appoggiò la faccia bianca e piuttosto stanca sui cuscini per parlare attraverso la porta aperta. Signor Turnbull, disse, non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto prima. Mi è fortemente radicato che tu ed io, gli unici occupanti di questa carrozza in fuga, siamo in questo momento i due più importanti persone a Londra, forse in Europa. Ho guardato tutte le strade mentre passavamo, ho guardato tutti i negozi mentre passavamo, ho guardato tutte le chiese mentre passavamo. All'inizio, mi sentivo un po' stordito dalla vastità di tutto ciò. Non riuscivo a capire cosa significasse. Ma ora so esattamente cosa significa. Significa noi. L'intera civiltà è solo un sogno. Tu ed io siamo la realtà. Il simbolismo religioso, disse Mr. Turnbull, attraverso la trappola, come probabilmente saprai, non si rivolge normalmente ai pensatori della scuola a cui appartengo. Ma nel simbolismo come lo usi in questo caso, devo, penso, ammettere una certa verità. Dobbiamo combattere questa cosa da qualche parte. Perché, come dici veramente, abbiamo trovato la realtà l'uno dell'altro. Dobbiamo ucciderci l'un l'altro o convertirci l'un l'altro. Pensavo che tutti i cristiani fossero ipocriti, e in realtà mi sono sentito molto mite nei loro confronti. Ma so che sei sincero, e la mia anima è arrabbiata con te. Allo stesso modo in cui pensavi, suppongo, che tutti gli atei pensavano che l'ateismo li avrebbe lasciati liberi per l'immoralità? Eppure in cuor tuo li hai tollerati del tutto. Ora sai che sono un uomo onesto, e sei arrabbiato con me, come io sono contro di te. Sì, è così. Non puoi arrabbiarti con gli uomini cattivi. Ma un uomo buono nel torto, perché si ha sette del suo sangue. Sì, mi apri una prospettiva di pensiero. Non incappare niente, disse Evan, irrimovibile. C'è qualcosa anche in quel tuo punto di vista, disse Turnbull, e spense la trappola. Corsero per strade luccicanti che colpivano come frecce. Il signor Turnbull aveva evidentemente una grande quantità di talento pratico inutilizzato che si stava svolgendo in questa ridicola avventura. Se l'erano cavata con una prontezza è così sorprendente che l'inseguimento della polizia con ogni probabilità non era nemmeno iniziato correttamente. Ma nel caso fosse successo, il tassista dilettante scelse il suo vertiginoso corso per Londra con una strana destrezza. Non ha fatto ciò che all'inizio sarebbe venuto in mente a qualsiasi estraneo ordinario desideroso di distruggere le sue tracce. Non ha tagliato per strade secondarie o si è fatto strada attraverso strade meschine. Il suo buonsenso da dilettante gli diceva che era proprio la strada povera, la traversa, che avrebbe probabilmente ricordato e segnalato il passaggio di una carrozza, come il passaggio di un corteo reale. Si tenne principalmente sulle grandi strade, così piene di carrozze che una coppia più selvaggia di quella che avrebbe potuto facilmente passare nella stampa. In una delle strade più tranquille Evan si mise gli stivali. Verso la cima di Albany Street di nuovo il singolare vettorino aperto la trappola. Signor Ma Chan, disse, capisco che ora abbiamo definitivamente stabilito che nel linguaggio convenzionale l'onore non è soddisfatto. La nostra azione deve almeno andare oltre di quanto non sia andata nelle recenti condizioni interrotte. Questo, credo, è inteso. Perfettamente, rispose l'altro con il laccio tra i denti. In quelle condizioni, continuò Turnbull, la voce che proveniva dal buco con una leggera nota di trepidazione molto insolita per lui, o un suggerimento da dare, se questo può essere chiamato un suggerimento, che probabilmente ti è venuto in mente altrettanto prontamente quanto a me. Finché non si verifica l'evento, siamo praticamente nella posizione se non di compagni, almeno di soci in affari. Fino a quando l'evento non si verifica, quindi dovrei suggerire che litigare sarebbe scomodo e piuttosto poco artistico. Mentre lo scambio ordinario di cortesia tra uomo e uomo sarebbe non solo elegante ma insolitamente pratico. Hai perfettamente ragione, rispose Maa Chan, con la sua voce malinconica, nel dire che tutto questo mi è venuto in mente. Tutti i doelanti dovrebbero comportarsi da gentiluomini gli uni con gli altri. Ma noi, per la stranezza della nostra posizione, siamo qualcosa di molto più di doelanti o gentiluomini. Siamo, nel senso più strano e più esatto del termine, fratelli. Darmi. Signor Maa Chan, rispose Turnbull, con calma, non c'è bisogno di dire altro. E' richiuse la trappola. Avevano raggiunto Finkley Road prima che lui la rieprisse. Poi disse, signor Maa Chan, posso offrirle un sigaro. Sarà un tocco di realismo. Grazie, rispose Evan. Sei molto gentile. E ha cominciato a fumare in cabina. Grazie. 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 Grazie.